Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Kryz e oggi ragazzi sono qui su GTA per fare un video Si mi sembra normale E comunque in questo video raga volevo un attimo mostrarvi un piccolo segreto che può tornarvi utile O almeno credo, comunque ve lo mostro io, tanto cazzo mene, le visual faccio lo stesso Comunque raga sono qui per fare, o meglio, per mostrarvi un metodo per poter fare il green screen Il green screen per chi non lo sapesse è comunque un modo per togliere lo sfondo dietro Diciamo il solito sfondo, per esempio io mi faccio una foto qui ecco, praticamente qui Ecco qui no? Tipo E voglio rimuovere lo sfondo dietro no? Allora cosa faccio? Uso il green screen E il green screen appunto è questa cosa qua che ti permette di togliere lo sfondo Comunque viene usato anche da youtubers e credo che, insomma, molti di voi seguono youtubers tipo Beastard Raga, che usa il green screen Comunque, niente, sto parlando in live raga Vi faccio vedere un attimo questo piccolo trucchetto in live Quindi, allora, innanzitutto ridigetevi qua Come vedete qui al cinema raga Sì, insomma, cinema dove è? Insomma, si fanno i film ecco E quindi una volta fatto show vi dirigete dove mi sono diretto io Quindi lì Poi salite queste scale E poi di nuovo salite queste scale Qui su, come vedete Poi correte, correte, correte Come se non ci fossero domani raga Tipo correte così proprio a caso Andate qua Così poi salite su questo tetto Andate su quest'altro tetto E come vedete avete il vostro bello green screen Dove potete, insomma, fare quello che volete praticamente Dove potete sparare, farvi foto E comunque è molto semplice Allora, quindi una volta che voi siete qui, no? Praticamente qua Poi vi mettete così E tipo fate fare un'animazione al vostro personaggio, no? Tipo a mandami di personaggio fa così in questo momento Voi potete fare lo screen E potete mettere anche così, insomma Comunque non lo so, vi mettete così Tipo ecco E fate fare un'animazione al vostro personaggio E basta poi, insomma, fate lo screen E poi su Photoshop raga In momento di green screen Avete il vostro, diciamo La vostra, diciamo La vostra sagoma del personaggio Come vedete Che farà, diciamo, in questo verso Diciamo in maniera ferma E senza lo sfondo dietro E niente raga Quindi, insomma Voglio mostrarvi questo, tra virgolette, trucchetto Titolo, tra virgolette Un trucchetto clickbait raga Per fare molte views No, vabbè A parte le cazzate E niente Quindi, insomma Ho fatto questo video Perché non sapevo cosa portare Quindi, niente raga Beccatevi sto video E spero che questo Insomma video vi è stato utile Sto parlando piano raga Perché tipo Sono le due del mattino E se tipo Io sveglio mia madre Lei tipo Prende Il primo coltello che ha in cucina E me lo infilza su per il culo Ho proprio tutto raga Senza neanche lasciare il mestolo Quindi Raga Niente Io Qua da Cricks è tutto Io ovviamente vi saluto E vi ringrazio Grazie mille a tutti Per il supporto Raga cerchiamo di superare I 30 like Per questo video Perché raga Se questo video raggiungi 30 like Vi porterò il video Del playstation plus Infinito Sì Che tutti lo stanno aspettando Il playstation plus Infinito Quindi Raga Niente Io vi saluto Vi ringrazio Seguidemi su tutti i social Ovviamente il link è nella descrizione E niente Insomma Qua da Cricks è tutto raga Io vi saluto Bella raga Ciao 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 Ciao